Io sono un centauro, vita e opere di Primo Levi, il viaggio. È il racconto del lungo viaggio che fece seguito alla nostra liberazione dal campo di Auschwitz per opera dell'armata rossa e che si portò lentissimamente attraverso tutta l'Europa sconvolta dalla guerra, dal campo medesimo attraverso la Polonia e la Russia fino a Torino. Non è un diario precisamente, è un seguito di racconti collegati dalla vicenda del viaggio. Quella che avete ascoltato è la voce di Primo Levi che sta parlando del suo secondo libro, la tregua che esce nel 1963. Il titolo è molto indicativo, la tregua indica effettivamente quel periodo di sospensione, come dice Levi stesso nel libro, tra la seconda guerra mondiale e l'inizio della guerra fredda. In questo periodo Levi attraverso l'Europa, come mostra la cartina anteposta al libro stesso, in un viaggio di ritorno che dura oltre otto mesi. Ma la tregua è anche un periodo di sospensione, insomma, di Levi stesso, della sua vita, periodo appunto tra il lager e il ritorno alla vita civile, un ritorno anche angoscioso, perché il libro si apre con la descrizione dell'arrivo dei soldati russi nel gennaio del 1945, soldati dell'armata rossa che arrivano ad Auschwitz. È una scena molto forte, molto cinematografica, molto visiva. I primi capitoli del libro sono dedicati ancora al lager stesso, alla sopravvivenza dopo la fuga dei tedeschi. Il libro si chiude anche con un'immagine di nuovo angosciosa, come quella iniziale, che è l'immagine del sogno ricorrente che Levi fa una volta tornato a Torino. In questo sogno prova l'angoscia di non essere mai uscito dal lager, che il lager è sempre, di essere ancora lì. All'interno di questi due momenti si svolge invece un libro estremamente picaresco, avventuroso, un libro di viaggio. La tregua è anche la vita stessa, dice Levi nell'autocommento all'edizione scolastica fatta per i ragazzi italiani. La vita come tregua, tra la nascita e la morte. Questa è una visione molto etica, ma anche molto, come dire, scientifica, molto stoica da parte di Levi. Chiediamo ad Andrea Cortellessa, che è un critico letterario, se la tregua è un libro di viaggio. Levi non si sottrae del tutto alla forma tipica del libro di viaggio e tuttavia ne dà una versione molto originale. Quello che colpisce di più è l'aspetto digressivo della narrazione. Così come il convoglio dei re uscita Auschwitz perde nella pianura sovietica e appunto perde tempo, rinvie il momento del ritorno a casa, così anche la struttura della narrazione è organicamente digressiva, per così dire. E questo è caratteristico dello stile, quindi della struttura, ma anche dello stile, perché la lingua stessa, il tono soprattutto che impiega Levi per questo libro è profondamente diverso da quello degli altri suoi, soprattutto quelli legati all'esperienza concentrazionaria. Levi diceva che era un libro piccaresco, in cui l'elemento anche del divertimento ha un peso significativo. Sì, a un certo punto, credo in Ucraina, si dice che addirittura i prigionieri italiani, reduci dalla prigioniera del campo di concentramento, si divertono come se fossero in vacanza, come se stessero in villeggiatura. Naturalmente è anche un paradosso perché si tratta di un sollievo rispetto a un periodo tragico come quello vissuto nel Lager. E poi il libro stesso avrà una figura d'anello perché inizia una situazione tragica come quella del campo di concentramento e termina con il rientro a Torino e col sogno, l'incubo che vive primo al suo rientro a casa, l'incubo che quella salvezza, quella liberazione non siano altro che a sua volta un sogno. Questa struttura d'anello racchiude però, come dicevo, tutta una serie di vicende che si possono ben definire piccaresche e che hanno fatto sì che per esempio Massimo Mila nel commemorare Primo Levi alla sua scomparsa abbia addirittura definito lo scrittore un umorista. Ebbene, effettivamente in questo libro, così come in tanti altri racconti del periodo soprattutto degli anni Sessanta, c'è un divertimento della scrittura che è un tono che apparentemente sorprende. Il divertimento della scrittura, il divertimento è anche parte della narrazione perché gli internati nel loro viaggio di ritorno assistono a uno spettacolo teatrale e anche a uno spettacolo cinematografico nel corso dei quali si scatena proprio la voglia di vivere, la voglia di tornare alla vita con un'euforia quasi isterica. Questo divertimento quindi è un divertimento reattivo appunto alla tragedia attraversata, è un moto di sollievo ma è anche, come dire, una protesta della scrittura e dell'esperienza contro un'esistenza ordinata, implacabile come quella del campo di concentramento. Lei vi ha detto più volte, commentando questo suo secondo libro, che gli piacciono queste figure strane, scalene, questi personaggi irregolari, insomma. Beh, ce ne sono diversi, affascinanti. Quello che mi viene subito in mente è in realtà un personaggio tragicissimo, come Urbinek, il bambino senza nome e senza lingua, che parla una lingua che nessuno comprende perché è nato in campo di concentramento e ha imparato quella lingua babelica che è parte integrante dell'esperienza dell'Ager secondo Levin. Però ci sono anche personaggi irregolari in un altro senso, come per esempio il romano o il greco, che sono due personaggi che fanno proprio a questo sentimento primario, diciamo quasi creaturale dell'esistenza, però sempre di un'esistenza associata. Ecco, se Urbinek è personaggio irregolare perché è il personaggio della tragedia, della solitudine, di una tragedia che non può comunicarsi, che non può accedere al linguaggio, il greco e il romano sono due personaggi che vivono invece dei piccoli commerci, anche delle piccole truffe, dei piccoli inganni, con i quali gli internati tornano alla vita. Ora ascoltiamo la Sinfonia 1812 Tchaikovsky, che Levi stesso ha indicato come una delle musiche che lo hanno accompagnato nel ritorno in patria. A Proda Kakovi, alla stazione ferroviaria della città, nel febbraio 1945, gli autoparlanti russi trasmettono questa Sinfonia che celebrava la vittoria dei russi su Napoleone. Quando sono stato liberato ad Auschwitz, ho poi girovagato con dei compagni di prigionia, fino a che sono approdato a Cracovia, alla stazione ferroviaria di Cracovia, nel febbraio del 1945, e quell'angolo di Polonia è stato appena liberato, e da tutti gli altoparlanti i russi trasmettevano questa Sinfonia di Tchaikovsky che celebrava la vittoria dei russi su Napoleone, in specie proprio questo pezzo in cui si cita la Marsigliese. E questo mi è rimasto come... io ero tutto stracciato, ma c'era questa marcia gloriosa per aria che mi è rimasta impressa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Con Davide Ferrario parliamo della tregua, ne parliamo anche perché insieme abbiamo realizzato un film, La strada di Levi, abbiamo ripercorso negli anni passati il tragitto di Levi della tregua avendo in mano la cartina. È stata un'avventura direi straordinaria per conoscere questi paesi dell'Est e a lui voglio chiedere insomma che libro di viaggio è la tregua. Beh io confesso che quando tu sei venuto per la prima volta da me con l'idea e mi hai detto perché non facciamo un film da questa intuizione di ripercorrere 60 anni dopo il viaggio da Svizzera a Torino, la prima cosa che ho fatto è stata andare a leggermi, rileggermi la tregua che avevo letto in età liceale e avevo messo uno scaffale mentale, quello dei classici, che dici ok tracci la crocetta sul classico letto e poi non ci pensi più. E invece ti ringrazio perché oltre a fare un film di cui sono molto orgoglioso mi hai fatto riscoprire Levi perché Levi, me lo ricordavo ovviamente come scrittore testimone del Lager, la maniera più banale di ricordarlo. Levi è un grande scrittore per sé e in particolare a te è un grande libro di viaggio che del Lager parla solo all'inizio, torno poi comunico verso la fine ma in mezzo ci sono 200 pagine di avventure spesso picaresche, di incontri improbabili, di personaggi straordinari e quindi è prima di tutto un libro elettrico mi verrebbe da dire cioè l'idea di un uomo che è in viaggio e che non sa cosa gli capita il giorno dopo ma che ha una direzione o sta tornando a casa e sa che tutto sommato tornerà a casa ogni tanto gli piglia l'angoscia però quasi sempre c'è questa disposizione d'animo dell'osservatore, di uno che ha un'occasione incomparabile e che alla fine la sfrutta fino in fondo, ecco è un grande libro di osservazione. Noi sappiamo che il viaggio modifica lo sguardo, ecco c'è un cambiamento di sguardo secondo te nel corso di questo viaggio un modo di guardare il paesaggio, i luoghi? Ma io direi che c'è quasi un atteggiamento posturale nel senso che all'inizio Levi è malato a letto si salva da Auschwitz per quello perché sta in infermeria ed è uno sguardo il suo quasi orizzontale cioè quello del malato che si guarda intorno guarda quello di sopra, guarda quello accanto che sta morendo si trascinano proprio quasi a terra poi si rimette in piedi e per tutto il viaggio è uno che guarda fuori, guarda fuori dal finestrino guarda il mondo che gli si sta riaprendo intorno guarda la gente che non deve temere più non deve più avere paura di quelli che possono fargli del male e alla fine nelle ultime pagine il suo sguardo si abbassa tu stesso mi facevi notare di come arrivato a Torino quando tutti ci aspetteremmo che lo sguardo che è stato attento e anche ironico per tutto il viaggio diventasse quasi, non so, romantico, sentimentale quando ritrova la famiglia no, lui dice molto chiaramente per 15 giorni camminai guardando i marciapiedi perché l'abitudine era quella di cercare da mangiare per terra a me fa molta impressione questo sguardo che durante il viaggio è aperto verso l'esterno e invece quando ritorna a casa si richiude quasi su se stesso e la geografia come si presenta nel libro la geografia diciamo di questo est Europa o Europa centrale che dir si voglia ma certo la grande differenza tra adesso e allora era che allora era un unico paese l'Unione Sovietica spesso però definita quando parlava di quelli che incontrava Levi se tu scorri la tregua non dice mai i sovietici o i comunisti sono sempre i russi c'è questa cosa così come i tedeschi non sono mai quasi mai i nazisti sono i tedeschi c'è questa idea di identificare i popoli molto per la loro cultura per la loro tradizione più che per l'ideologia certo adesso siamo in grado di apprezzare delle diversità Pielorussia piuttosto che Ucraina Moldavia piuttosto che altre zone che anche quelle sono curiose perché se tu uno pensa poi che la geografia di oggi è la geografia più giusta cioè come se fosse un processo storico che arriva inevitabilmente a tracciare i confini più corretti mentre dovremmo avere il relativismo di pensare che questi confini sono abbastanza arbitrari anche adesso cioè la Moldavia per esempio ha una storia forse medievale ma la Moldavia adesso si è guadagnata una sua autonomia all'ombra della Russia di Putin quando in realtà i rumeni la rivendicano ed effettivamente lì non si scrive in cirillico e si parla quasi rumeno tutte queste pezzi di geografia che sono stati ridisposti dopo la caduta del comunismo però mi pare che appartengono a me è sempre stato il sentimento che credo tutti abbiamo sentito a un altrove che non è lontano cioè è ancora Europa è un pezzo di mondo che è radicalmente diverso da noi proprio nella sua percezione del mondo ma che però non è esotico non è l'Asia, non è l'Africa, non è un altro continente è assolutamente Europa è una specie di specchio in cui noi possiamo guardarci e capirci meglio Levi pone nel suo libro una cartina in cui descrive questo viaggio questo tragitto come la leggeresti questa cartina con questi luoghi la linea che congiunge e crea questo cammino di ritorno questo tortuoso cammino di ritorno sì la cartina che c'è anche nell'edizione è un'audiana della tregua è una cartina che tu mi dici Primo Levi schizzò personalmente insomma è poi il punto di partenza del nostro film ma è anche poi la cosa a cui siamo sempre tornati per capire cioè nel senso che lui attraversò quello che oggi sono molti confini cioè Polonia, Ucraina, Bielorussia Ucraina di nuovo passando per Cernobil Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia Austria, Germania, Italia insomma ecco e il punto è che avremmo potuto raccontare qualsiasi cosa di questi paesi tutto sommato e la cosa che ci ha guidato è stata l'esperienza di Levi e spesso l'esperienza di Levi erano alcune cose alcuni incontri ma sostanzialmente i luoghi luoghi in cui lui è passato i luoghi che hanno suggerito a noi ulteriori incontri o ulteriori raffronti per esempio uno potrebbe chiedersi cosa c'entra Cernobil con il viaggio di Levi è che quando tu prendi l'itinerario leviano di adesso lo dipanni su una cartina contemporanea non puoi non renderti conto che mentre nella cartina originale del 63 ovviamente Cernobil non aveva importanza passando da Ovruch che è uno dei paesi segnati su questa cartina a pochi chilometri di distanza c'è Cernobil e se fai quel viaggio adesso non puoi non pensare che un pezzo del 900 si è giocato lì e che quindi valesse la pena ripassarci e non è un caso neanche che Levi ne scrisse poi nel 86 un anno prima di morire sulla stampa ha espresso un'opinione su quella che era stata una catastrofe insieme della scienza e una catastrofe anche dell'informazione come ricordava adesso Davide Ferrario questo viaggio di Levi si svolge in questa grande terra russa allora sovietica in un momento particolarmente felice della vicenda umana di Levi che lui ricorda anche con una sorta di nostalgia infatti in una conversazione radiofonica del teatrino della memoria si riferisce a una canzone popolare russa Kalinka Kar che gli rammenta quella permanenza insieme ad altre persone migliaio di italiani che erano in attesa di essere impatriati ex deportati ma anche soldati catturati nel corso della guerra in questa caserma mezza dirocata dell'armata rossa Levi parla dei russi con entusiasmo i russi sono terribili in guerra si presentano quasi come un popolo barbaro ma hanno una grande e immensa gioia simile al paesaggio in cui si trova lui stesso immerso mentre i tedeschi sono visti in un modo diciamo più duro più secco critico non sono appunto i nazisti ma sono i tedeschi la cui disciplina il cui ordine è di tipo meccanico ecco questo è l'aggettivo che usa Levi questa è Kalinka Kala una canzone popolare russa una bellissima canzone non è vero che anche questa è rievocativa mi trovavo nell'estate del 45 in piena foresta in una caserma mezza diroccata dell'armata rossa insieme con un migliaio di altri italiani in attesa di un rimpatrio che era abbastanza problematico perché non se ne parlava i russi ci dicevano state tranquilli verrà anche il vostro giorno neanche noi non siamo ancora rimpatriati abbiamo fatto la guerra e voi no voi siete italiani siete quindi dei fascisti e quindi perché vi lamentate noi siamo russi abbiamo vinto i tedeschi e siamo ancora qui non siamo ancora nelle nostre case ora in questi giorni di attesa non infelici perché era estate faceva caldo non c'era da lavorare da mangiare ce ne davano l'unica infelicità era l'incertezza abbiamo sentito all'orizzonte lontano lontanissimo le note di questa canzone e di altre canzoni russe ed erano delle squadre di soldati sovietici che erano stati sbobilitati nel modo più elementare più semplice i loro comandi avevano detto avete finito di fare la guerra andatevene pure a casa e tornavano a casa a piedi ora chi abbia un'idea della distanza della lunghezza lungo i paralleli dell'unione sovietica si rende conto di che tipo di rimpatrio fosse erano squadre alcune a piedi alcune addirittura di uomini scalzi che portavano le scarpe a tracolla per non consumarle altri con i mezzi più incredibili gente selvaggiamente gioiosa che ci salutavano con entusiasmo andavano verso oriente andavano verso casa loro dovevano ancora fare mille duemila tremila chilometri magari fino al cuore della Siberia e cantavano calinca cala calinca cala calinca cala calinca cala calinca cala Grazie.